Nella festa di San Giovanni Evangelista, giusto due parole, vorremmo introdurre questa serata con degli ospiti. Prima dello spettacolo di Pandela ci saranno quindi due ospiti, una femminuccia e un maschietto. Nel senso che adesso facciamo un maschietto e un femminuccio e poi ci sarà solo un maschietto. Comunque, ho il piacere di presentarvi una cantante etnica naturalmente che si chiama Veronica Pisano. Facciamo un applauso, così cominciamo a mandare un po' di calore, accompagnato dal maestro Maurizio Castaldi. Quindi, successivamente a questi due brani, ci saranno altri due brani con un noto personaggio che sicuramente voi riconoscerete, si chiama Tonino Lelleggio. Lo ricordate? Ok, quindi questo è l'antipasto, poi il pezzo forte ci saranno le ragazze e i musicisti di generazione. Lascio il microfono alla signora Veronica Pisano. Grazie. 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 Regalanza primavera Regalanza primavera Regalanza primavera Regalanza primavera Vado incontrare E ai un'altra ansi Hai un'anima sincera Hai un'anima sincera Grazie